Il primo giugno al teatro Apollonio di Varese la compagnia Entrata di Sicurezza presenta gli Annacci e dintorni. Certo, con le canzoni di Annacci ma non solo, anche con quelle dei compagni di avventure, compagni artistici come i vari Gaber, come i vari Cocchi Renato, come i Dario Fo. E lo fa in un contesto in cui le canzoni di Annacci si inseriscono perfettamente perché, come sappiamo tutti, trattano i temi della solidarietà, dell'abbandono, di quelli che portavano le scarpe del tennis perché purtroppo non avevano soldi per comprarsi le scarpe della festa. E il contesto è quello di Varese, appunto la compagnia raccoglie l'invito di Don Marco Casale che tutti conosciamo, che è responsabile della Caritas Varesina. Cerchiamo di capire meglio in che contesto si inserisce questo spettacolo, questa serata. Grazie Don Marco per l'invito. Grazie, noi vogliamo sostenere in questo modo Casa Zaria che è una casa che accoglie dei ragazzi neomaggiorenni perché vediamo che quei ragazzi che escono dalle comunità residenziali per minori, oppure che escono dalle famiglie perché non possono avere quell'aiuto e quel supporto di cui hanno bisogno e non sanno dove andare e non hanno qualcuno a cui appoggiarsi. Allora ecco l'idea della cooperativa San Luigi di aprire Casa Zaria. È già aperta, lo vogliamo inaugurarlo ufficialmente, vogliamo dargli lo slancio, vogliamo far conoscere questa realtà nuova qui nella città di Varese e vogliamo con questo spettacolo sostenerla. Sicuramente gli annacci credo che non si sarebbe tirato indietro dal comporre una canzone dedicata oggi ai giovani, alle difficoltà che incontrano nel loro percorso di vita, a trovare un lavoro, ad avere un contesto comunitario che li accolga, dei coetanei con cui condividere un cammino supportandosi anche reciprocamente con un personale educativo che li supporta, li consiglia e li aiuta. Vi aspettiamo allora il primo di giugno al Teatro di Varese con lo spettacolo degli annacci per sostenere i ragazzi ospitati in Casa Zaria. Grazie.